Il giorno della memoria, il giorno per ricordare, per passare il testimone di una delle pagine più strazianti della storia dell'umanità, lo sterminio nei campi di concentramento nazisti, di ebrei, deportati militari, rom, omosessuali. Il giorno della memoria torna il 26 gennaio al Mandela Forum di Firenze. Quasi 8000 ragazzi delle scuole della Toscana si confronteranno sulle leggi razziste dell'Italia fascista del 1937, quelle che precedettero di un anno le leggi antisemite del 1938. Perché bisogna sempre vigilare ed evitare che questi orrori possano riaccadere, ricordare per non dimenticare. Anche quello che dica sono passati tanti anni, ma perché rivangare? Proprio perché sono passati tanti anni, non esiste un antidoto contro queste cose, però esistono i vaccini, tanto per non parlare di cose, i vaccini vanno ripetuti, non basta un vaccino, ci vuole i richiami. Ogni anno c'è un vaccino, un richiamo, e questo è un po' lo scopo della regione toscana. Per questo in Toscana il giorno della memoria non è vissuto solo come una celebrazione, con più di 6.000 studenti e 1.000 insegnanti sul treno della memoria dal 2001, 60.000 studenti al Mandela Forum dal 2006, tra corsi di preparazione che durano tutto l'anno e iniziative in tutta la regione. E al Mandela Forum venerdì ad accogliere gli studenti sarà Enrico Fink. Poi sarà la volta dei testimoni e sopravvissuti alla Shoah, Vera Vigevani Yarak, Aldo Zargani, Vera Michelin Salomon, Kitty Brown e Andra Bucci. Poi sarà la volta della struggente Ninna Nanna, composta nel ghetto di Terezin e suonata con gli strumenti dell'epoca. Il Quirinale ha concesso al meeting del giorno della memoria la medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica Italiana.